buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è lunedì 8 luglio 2024 iniziamo insieme una settimana dando un'occhiata ai giornali il resto del carlino il corriere adriatico sulle pagine locali vediamo dunque il santo del giorno anzi oggi i santi sono due eccoli qua nella grafica sono i santi aquila e priscilla erano marito e moglie discepoli di san paolo incontrarono l'apostolo a corinto dove san paolo predicò nel foro di corinto nella bema in questa tribuna con la quale parlò appunto ai corintesi e poi l'ospitarono anche a efeso dove san paolo lavorò come tessitore di tende sì perché san paolo era un predicatore era un evangelizzatore ma lavorava anche perché doveva mantenersi e cosa fece imparò il mestiere di tessitore di tende di tende tanto che coloro che tessono le tende ancora oggi hanno eletto san paolo come il loro protettore ed ora passiamo alle previsioni del tempo ecco la grafica un tempo ancora solleggiato sulle Marche con un cielo irregolarmente nuvoloso ma sono nuvole che non danno preoccupazione le massime sono alte 28 32 gradi i venti i venti deboli sulle coste da nord nord ovest nell'entroterra da ovest nord ovest le temperature dicevo 22 22 la minima e poi come abbiamo detto 28 32 la massima il mare è calmo e vediamo anche il sole il sole è sorto questa mattina alle 5 e 32 e tramonterà alle 20 e 52 ciò detto passiamo subito alla lettura dei giornali e con la prima pagina del resto del carlino dove sono sintetizzate tutte le notizie delle province marchigiane vediamo subito quella di pesaro ieri si è celebrato un evento importante nel capoluogo della nostra provincia si è celebrata la festa del porto la festa del porto una festa tradizionale che sancisce il rapporto tra la città e il mare in agosto lo farà anche la città di fano festa del porto tutti sull'acqua e lancio dell'alloro è un momento anche di ricordo di coloro che hanno perso la vita in mare sia per qualche incidente sia per questioni lavorative comunque all'iniziativa hanno partecipato tantissime imbarcazioni che hanno seguito l'ammiraglia dalla quale è stata gettata una corona dall'oro tra le onde la benedizione è stata affidata a don marco di giorgio una persona molto molto nota non solo a pesaro ma in tutta la provincia vedremo nei particolari poi questa notizia vediamo anche un lutto è deceduto ronni murrone era un appassionato di tennis una grande persona lo vediamo qui in questo trafiletto e poi la cronaca la cronaca che è salita alla ribalta nel weekend è stata svaleggiata la villa di un noto professionista pesarese si tratta di cesaroni e un un uomo che era molto molto che è molto molto conosciuto a pesaro come un bravo professionista ebbene la sua villa è stata ripulita dai ladri il bottino ingente tanti tanti danni soprattutto alla mobiglia quando sono entrati nella casa hanno distrutto tutto quasi per un dispetto nei confronti del proprietario vediamo vediamo anche le altre province ancona ancona in una villa è stata trovata una una signora perché è una quarantenne nuda trovata in piscina il proprietario chiama le forze dell'ordine questa era entrata pensando che la villa fosse disabitata si era spogliata poverina non non aveva una casa in quel momento disponibile e prendeva un po di sole si era riposata però sono arrivate le forze dell'ordine e l'hanno portata in commissariato e poi invece un fatto preoccupante è accaduto a chiaravalle un ragazzo ha puntato una pistola contro una donna è stato denunciato comunque la pistola era un'arma giocattolo si parla anche di un festival che ha radunato tante persone un successo l'ulisse feste e adesso si replica a senigallia un lutto è morto il vice comandante e moscatelli del vice comandante della polizia locale è morto a 62 anni quindi molto molto giovane a macerata un'auto finisce nel lago morti marito e moglie si pensa ad un omicidio suicidio la donna era malata di alzheimer e forse il marito non ha più resistito a vedere la moglie ridotta in quelle condizioni a coridonia via libera al progetto dell'ascensore sulle mura per il centro e a civita nova polemiche per la variante il santuario va protetto un'ultima sintesi per quanto riguarda le province di ascoli e fermo un incubo mucillaggine nell'adriatico senza mareggiate il problema resta è un problema importante questo che incombe sulle flottiglie pescherecce della nostra riviera paglio del mare vittoria ai delfini dopo 21 anni delfini sono una fazione ovviamente argento per gli squali bello questa iniziativa che così rievoca un po' la contesa però nell'acqua e non nella terra a san benedetto un episodio di cronaca ubriati minacciano i bagnini e li derubano arrivano però i carabinieri ed ora apriamo il giornale apriamo il giornale sulla pagina di pesaro dove vediamo i particolari della festa del porto tutti in mare ieri tantissime le imbarcazioni che hanno fatto da corona alla nave ammiraglia il rito religioso come abbiamo detto è stato celebrato da donne marco di giorgio digio per tutti coloro che lo conoscono più da vicino in navigazione anche la biancanis girl la ragazza di biancani comunque un mare abbastanza tranquillo ha permesso attentissime imbarcazioni di uscire per salutare il lancio della corona dall'oro una messa solenne è stata poi celebrata nella chiesa parrocchiale della diocesi di don marco il quale ha giustificato l'assenza dell'arcivescovo don sandro salvucci che ha però inviato un messaggio di saluto ed è dato un messaggio anche il sindaco biancani per cui la festa è stata la prima festa del suo mandato la festa del porto ha detto è una delle manifestazioni che più di altre richiama lo spirito identitario della città di pesaro che come quella di fano è una città proiettata sul mare una città che dal mare riceve risorse riceve benefici pensate al turismo ma pensate anche alla pesca al commercio e riceve anche benefici per quanto riguarda i rapporti con le altre località che sono sull'altra sponda e la giornata era iniziata con il motoroduno del mare organizzato dal motoclub benelli e sott'acqua con il sub tridente alla rotonda bruscoli poi ci sono state tante altre iniziative come i giochi dei ragazzi pali della cuccagna street food mercatino degli ubisti insomma tutte le altre cose che possono rendere una località ricca di iniziative quindi attira tantissime tantissime gente però ci sono anche i problemi ci sono anche i problemi perché nella festa del porto non bisogna dimenticarli per esempio il porto di pesaro ha bisogno di un dragaggio e di questo si è occupato il sindaco subito il dragaggio e poi più di portismo sì perché il di portismo attira turisti ma gli attira di una classe piuttosto elevata e quindi sono turisti che possono spendere possono più alimentare l'economia cittadina il sindaco andrea biancani ha affermato che il porto è in cima ai suoi pensieri e speriamo che rimanga ed ora diamo un'occhiata invece a quell'episodio di cronaca che ha visto un furto eclatante messo a segno da ladri vandali a villa cesaroni agostino cesaroni noto e conosciuto commercialista cittadino ha lasciato la casa in via della necropoli intorno alle 21 dell'altra sera è andato a cattolica così a festeggiare la serata con gli amici purtroppo al ritorno ha visto la casa letteralmente devastata devastata come fossero vandali perché hanno buttato giù le porte ed anche spaccato tutte le finestre ribaltato i mobili quasi fosse un dispetto hanno cercato dappertutto sapendo che in casa non c'era nessuno la cassaforte che era ben occultata e probabilmente l'hanno cercata con un metal detector perché era dietro un mobile e alla fine l'hanno trovata e con un frullino hanno aperto appunto la cassaforte e portato via tutto il danno e il danno ancora di preciso non è stato quantificato si sta facendo l'inventario però il grosso del bottino è formato da orologi di valore gioielli ori di famiglia è una cifra di contanti che ancora non è stata quantificata quindi sì un danno per il bottino ma un danno soprattutto per i danni per la devastazione fatta all'interno dell'appartamento vediamo anche un articolo che riguarda il lutto di cui abbiamo parlato è morto è morto ronni murrone era l'anima della baratov questo centro di tennis è molto qualificato nella città di pesaro è morto nella notte a soli 68 anni il presidente del circolo di lucanardi il comune lo ricorda come una grande persona e ha vissuto con gentilezza lo vediamo qui e ronni murrone con il tennista luca nardi insomma un che uno dei tennisti che insomma ha fatto a lustro alla città di pesaro dove il tennis è molto molto coltivato per quanto riguarda fan invece abbiamo la notizia della desolazione che regna nel canale albani canale albani in secca e quando il canale albani in secca mostra un po tutte le sozzure che qualcuno poco intelligentemente ha gettato nel canale sono copertoni rifiuti certo non rende bello perché questo è un bellissimo corso d'acqua quando c'è l'acqua perché poi è popolato da una fauna molto molto vivace molto bella che è stata incentivata dal progetto messo messo in atto da giuseppe corina un ambientalista che ha fatto veramente del bene alla città ebbene le condizioni del canale albani destano preoccupazioni in modo particolare che siamo in pieno della stagione turistica e vedere questo spettacolo di melma di fango di rifiuti in mezzo alla città certo non è un bello spettacolo e allora e allora bisogna intervenire quindi l'appello è a Enel che gestisce appunto il corso d'acqua perché alimenta una centrale elettrica quella della liscia di ripristinare l'acqua sappiamo anche che siamo in piena siccità e quindi il problema non è di facile soluzione allora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico dove si parla degli invasi degli invasi e qui nella pagina di Urbino discarica di riceci e il max invaso scelte mio per altro che soluzioni e il comitato contro la discarica di riceci alza il tiro e punta il dito anche contro la diga protetta ad Apecchio ebbene il sindaco Gambini ha rilanciato il tema della discarica di riceci appena è stato eletto e ha detto sono contrario lo ha detto però senza entrare nel merito il giorno dopo si fa presente che la discarica riceci in qualche altro riceci 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali è un progetto vivo e vegito e che la vecchia politica non ha saputo contrastare questo progetto che ancora ancora rimane rimane lì in fieri cioè in atto per essere realizzato insomma è un problema quello che tra rifiuti e siccità deve essere rifolto perché risolto perché interessa un vasto territorio non è di Urbino non è di dei paesi vicini ma è di tutta la provincia vediamo ora la pagina di Fano dove c'è un lutto è morto un personaggio che era veramente l'anima di quello che è un fanese un carattere fanese un fanese doc è morto Mauro Ciavaglia aveva 82 anni un personaggio che non era non aveva ricoperto grandi cariche oppure aveva fatto chissà che ma esprimeva veramente l'anima di Fano lo esprimeva con quella veracità con quella immediatezza con quel dire pane al pane senza alcun pelo nella lingua che l'aveva reso simpatico a tutti era spesso presente nei social lo è stato fino a pochi giorni prima della sua morte prendeva un po' in giro tutti aveva fatto anche delle battaglie la battaglia a favore della sirena del porto a favore dell'avatoio della darsena borghese era una battaglia ripetitiva giorno dopo giorno insomma ricordava gli amministratori questi due obiettivi di particolare importanza ebbene faceva parte anche del gruppo che si riunisce stabilmente sotto i portici di palazzo gabuccini un gruppo che parla un po' di tutto discute parla di politica qualche qualche pettegolezzo chiacchiere insomma lì c'è veramente l'anima di Fano perché i fanesi sono un po' criticoni ma sono anche molto propositivi e cercano di rendere amano soprattutto la loro città e la cerca e cercano di renderla più bella ebbene i funerali di mauro ciavaglia si terranno domani alle ore 9 30 nella chiesa di san giuseppe al porto ne è data notizia sui social la figlia costanza comunicando che la morte del padre è avvenuta nel pomeriggio di sabato scorso quindi ci saranno tantissime persone perché poi mauro ciavaglia era anche un'anima del porto una persona legata alle tradizioni portolotte e marineresche vediamo un'altra notizia che riguarda Fano parcheggi con strisce blu gratis per mezzi elettrici e quanto propone con una mozione il consigliere comunale del movimento 5 stelle francesco panaroni che data la crisi e la crisi ambientale che stiamo vivendo un po tutti sappiamo come l'atmosfera il mondo il pianeta ha bisogno di essere rivitalizzato cercando di sopire certe pratiche che lo stanno distruggendo ebbene l'incentivo ai mezzi elettrici potrebbe essere anche un concorso a una soluzione non dico a una soluzione che andrebbe a buon fine e allora panaroni cosa dice per incentivare l'acquisto l'uso dei mezzi elettrici facciamo sì che questi possano parcheggiare gratuitamente nel parcheggio a pagamento del centro storico e poi ci servono ancora più colonnine per la ricarica di questi mezzi dato che quelle che sono in atto sono insufficienti e vedremo come risponderà l'amministrazione comunale poi abbiamo due notizie dell'entroterra no al nuovo insediamento produttivo dell'ex SICAP il comitato cittadino rileva che la zona di Cartuceto di Lucrezia soprattutto dove si dovrebbe insediare questa ditta che viene considerata insalubre non si presta ad una zona urbanizzata e questo creerebbe anche il depreciamento delle abitazioni che sono già nel luogo e quindi c'è proprio un no detto preciso all'insediamento di questa ditta di cui una sezione dedicata alla verniciatura e per cui viene considerata insalubre Per le terre belle una settimana da capitale anche terre rovenesche celebrerà insieme a Pesaro il suo ruolo di capitale della cultura vi ricordate come l'ex sindaco di Pesaro abbia così condiviso il suo successo il successo della sua città come capitale nazionale della cultura con 50 comuni della nostra provincia ebbene questa volta tocca a Barchi, a Urciano, a Piagge e a San Giorgio ebbene tutto questo viene così emblematizzato attraverso un nome un nome suggestivo quello di Lavinia una delle ultime discendenti della Rovere della Rovere è morta appunto nella zona di questo comune Montebello mi sembra che ci sia un palazzo a lei dedicato quella strada è pericolosa, serve almeno un autovelox i residenti e i testimoni dell'incidente mortale di Mondolfo in Sorgono è morto un ragazzo, un ragazzo molto molto giovane Alessio Diamantini di 25 anni i residenti di Ponterio, di Mondolfo che hanno assistito l'altro pomeriggio all'ennesimo incidente stradale si dicono profondamente scioccanti per quanto accaduto e vogliono dei correttivi per cercare di rendere quella strada meno pericolosa e far sì che queste cose non accadano più vediamo anche la pagina di Seligaglia aiutatemi, mia moglie si è sentita male è una signora 69 anni che è collassata in casa tra le braccia del marito muore sotto gli occhi appunto del consorte le urla hanno tirato i vigili del fuoco che erano intervenuti non per questo caso ma per una abitazione vicina ma però il loro intervento non è riuscito a salvare la signora aiutatemi, mia moglie sta male l'urlo disperato di un marito ieri mattina a Cesano rivolto ai vigili del fuoco che stavano intervenendo nella palazzina a fianco è morta così Patrizia Pierandrei 69 anni di Iesi purtroppo non c'è stato nulla da fare siamo vicini alla conclusione vediamo la pagina di Pesaro l'apertura è dedicata eccola qua alla festa del porto anche sul Corriere Adriatico per il porto meno vincoli bisogna aiutare le attività questo lo ha detto il sindaco lo ha detto prendendosi un impegno ovviamente per così risolvere questi problemi per Biancani dunque prima festa da sindaco insieme al dragaggio e piano regolatore tra le priorità mette il nodo dei permessi e qua lo vediamo mentre è all'interno di un'imbarcazione alla plancia a comando quasi che così cominciasse a dirigere tutto un programma di lavori per rivitalizzare e qualificare l'ambito portuale e qua vediamo diversi momenti della cerimonia qui viene gettata la corona dall'oro qui Don Marco di Giorgio fa la benedizione qua vediamo invece le imbarcazioni che fanno da corona all'ammiraglia chiamiamola così quella da cui poi viene gettata la corona dall'oro giriamo la pagina Piazza Redi avanti con il restyling e sono diversi giorni che questa notizia viene replicata dai giornali sono state accolte scusate accolte le richieste del centro-destra e c'è un patto tra comune e i condomini Andreoli della Lega rivendica il ruolo svolto in questi anni comunque si è deciso di rifare almeno la pavimentazione del portico della piazza oggi iniziano i lavori di marche multiservizi per gas e acqua e per 40 giorni ci saranno divieti di sosta in via Galilei colpo grosso nella villa di Cesaroni il bottino mezzo milione di gioielli il Corriere Adriatico fa anche una cifra una cifra piuttosto consistente il furto avvenuto sabato sera quando il commercialista lo abbiamo detto era fuori a cena con la moglie è stata tagliata con il con il frollino la cassaforte e poi vediamo un appello un appello di una signora che purtroppo non si trova in buone condizioni di salute io malata di cancro ve lo grido fate prevenzione una testimonianza questa che vuole essere un invito alla speranza bisogna avere fiducia nella medicina e soprattutto nei medici una lettera questa che tocca il cuore e che stila un po' di coraggio ai malati che si trovano in questa condizione lei si chiama Monica Franco e racconta quello che sta vivendo con parole semplici e parole toccanti insomma leggere quest'articolo è edificante si pone un po' di sollievo anche per chi si trova in triste condizioni e con questa notizia noi concludiamo la nostra rassegna stampa dandomi come sempre appuntamento a domani alle 7 per le notizie del giorno alle 20.30 nel TG di Fano TV occhio alla notizia e questo è tutto per il momento a risentirci di Fano TV Grazie a tutti.